Sicuramente quando vinci 1-0 contro l'Inter a San Siro e poi finisci in questa maniera il rammarico non è solo quello che resta, resta la delusione, restano tante cose. In Spogliatoia ci eravamo detti di continuare così, di continuare con questo spirito, con questa voglia di fare risultato, questa voglia di portare a casa i punti, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Per quanto riguarda invece la tua prestazione personale, sei entrato con coraggio e c'è stato anche quel tiro che ha fatto ben sperare, quindi come vedi anche la tua prestazione che cresce di volta in volta? Il mio obiettivo avendo questa età giovane è di migliorare ogni partita che gioco, che sia un minuto, che siano 10, 20, 30, il mio obiettivo è quello di crescere, aiutare la squadra il più possibile, crescere me, dimostrare al mister che comunque so stare con questa maglia, in questo stadio, in questi palcoscenici, quindi sicuramente ogni giorno che passa devo migliorarmi non solo in campo ma anche in allenamento. Grazie a tutti.